Cominciamo subito dalla riete. Giornata un po' in salita, ma che sarà comunque condita di colpi di scena. Una questione legale potrebbe finalmente risolversi a vostro favore. Dovrete pensare a come investire una piccola somma di denaro. Toro, malgrado qualche contrattempo, riuscirete a mantenere la rotta e a rispondere agli imprevisti con ottimismo. Alla fine avrete ragione voi. I cambi di programma finiscono sempre con l'inervosirvi. Gemelli, possibili problemi sul lavoro. Qualcuno intralcerà i vostri piani. In amore, invece, le vostre capacità di seduzione fanno capitolare chi vi piace. Non è la giornata giusta per prendere decisioni importanti, poiché sarebbero dettate dalla confusione. Cancro, avanzerete proposte innovative, ma capaci di sposarsi con una notevole concretezza. E raccoglierete anche i consensi di cui avete bisogno. Leone, coinvolti da mille pensieri e resi più che mai determinati a proseguire un vostro progetto d'amore, forse trascurate gli impegni di lavoro. Se avete intenzione di comprare casa, valutate bene i pro e i contro di una proposta e solo dopo decidete. Vergine, ricco di emozioni che non provavate ormai da molto tempo, il rapporto con la persona amata finalmente ritrova entusiasmo e freschezza. Bilancia, novità si intravedono all'orizzonte, ma ancora i contorni non sono definiti. Con pazienza aspettate che la situazione si definisca e poi passate all'azione. Intanto frequentate ambienti o persone nuove. Scorpione, la collaborazione di un collega vi sarà utile per rispettare una scadenza importante. Non mancate poi di dimostrargli la vostra gratitudine. Sagittario, la giornata trascorre a corrente alternata a causa di influssi astrali confusi con l'umore che segue stressanti up and down. Il nervosismo è tangibile, cercate di rimanere con i piedi ben piantati a terra. Capricorno, una proposta di collaborazione in un settore che nelle vostre corde vi porterà a concretizzare risultati davvero fuori dall'ordinario. Dedicatevi anche allo sport, a un hobby oppure passeggiate semplicemente. Acquario, anche se un amico ha tradito la vostra fiducia, prima di rinunciare a un legame vecchio di anni cercate di capire i motivi del suo comportamento. La giornata si prospetta infarcita di complicazioni. Pesci, malinconici e un po' cupi potreste essere ipercritici con chi vi circonda, ma al tempo stesso sarete indisponibili ad ogni tipo di osservazione. È come se certe esperienze della vita scivolassero via senza lasciare traccia. Cercate di crescere per affrontare finalmente una relazione matura.